Qui Baden-Württemberg pieno di alberi di mele da parte. Come abbiamo detto ragazzi, Bodensee, Germania, siamo qui sul lago di Costanza, qui siamo nella parte appena passato la Svizzera. In questo video vi faccio vedere un po' come è la situazione strade. Non farò un video Tombini, compagno, vi faccio vedere un po' di strade. E qui ragazzi è tanta roba. Vi faccio vedere di qui, dalla parte di là siamo in Svizzera tedesca. Venendo da San Gallo entri e arrivi qua sul Bodensee. Là non ve lo faccio neanche vedere perché là in Svizzera tedesca siamo talmente da quella parte qui a dei livelli che sono impensabili per noi. Piano perché ci sono le scuole, qua c'è scritto 30 l'ora. Oh, questo paese è gemellato con Bolsena, Lazio. Queste sono le scuole. Svegli qua, perfetto. Non c'è fuori una virgola ragazzi. Adesso vi faccio vedere un po' la situazione qui nel Baden-Württemberg. in zona Bodensee, vicino a Zingen, più o meno queste zone. non c'è fuori un po' la situazione. Svegli qua! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.